diaduita a tutti non so quanti di voi lo sapranno barra se lo ricorderanno barra lo avranno letto ma questo è il mio primo video con un anno in più quindi tanti amori a me non lo girerò tutt'oggi perchè oggi si farò una piccola pizzata ristretta abbiamo deciso di approfittare di questa ricorrenza per ecco ecco il giorno del proprio compleanno sussidono queste cose di approfittare di questa ricorrenza dicevo per festeggiare con il conte max che penso molti di voi già conosceranno però siccome in questo momento ho circa 811 iscritti spero che quando pubblicherò questo video ci sarà qualcuno in più che lo andrà a visitare nel frattempo vi lascio anche la foto del mio pranzo di oggi ve lo lascio perchè è una ricetta che ho preso da da un canale di due mie carissime amiche youtubers che sono clara e mirella del canale ricette in pochi minuti e quindi vi lascio il link del loro canale passate perchè pubblicano una ricetta diversa ogni settimana perchè ne vale la pena la cosa che volevo dirvi prima di passare l'altro pezzettino è di visitare un altro canale l'altro canale che vi propongo oltre a quello del conte oltre a quello delle ricette si chiama la vita di erica comunque vi metterò tutto nell'info box quindi mi raccomando guardatelo si chiama la vita di erica ed ho gestito da due ragazzi che si chiamano erica e alan che saluto ciao erica ciao alan che mi hanno chiesto gentilmente se potevo aiutarli a farsi conoscere perchè hanno mi pare solo 21 iscritti e ve lo consiglio perchè sono due amici veramente molto speciali che passano gran parte del tempo a prendersi in giro e fanno il tutto con una naturalezza veramente da fare invidia quindi passate mi raccomando io per oggi vi saluto vi mando un bacione grosso grosso grazie di seguirmi scusate i messaggi di sottofondo ma capirete insomma il mio compleanno e noi ci vediamo per voi tra pochi secondi con la seconda parte del blog dedicata ai festeggiamenti con il conte max ed eccoci qui di nuovo insieme io e il conte max come vi avevo promesso così approfittiamo per fare una doppia specializzazione visto che siamo arrivati nuovi scritti se non fa io siamo a 818 mi ringrazio quindi sono tutti nuovi scritti vi invito a passare nel canale del conte max approfitto anche per farvi vedere il suo regalino mi ha regalato questo tutto che io uso come se non ci sono le mani senza saperlo bella della diretta bella della diretta nulla così abbiamo approfittato bella 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 Auguri a Riccardo.